Italia Independent festeggia il suo debutto a Piazza Affari. La società, fondata dall'Apoelcan e il rampollo della famiglia Agnelli, si è quotata oggi su Lime, il mercato alternativo del capitale di borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. E il suo ingresso a Piazza Affari è stato accolto con un applauso. Nella sua prima giornata di borsa il titolo è arrivato a superare i 30 euro contro un prezzo di collocamento di 26 euro. La società è attiva nel mercato dell'occhialeria ma anche nei prodotti lifestyle e della comunicazione. La quotazione odierna è solo uno dei primi passi del suo ambizioso percorso di crescita. Tra gli obiettivi del gruppo c'è infatti quello di conquistare nuovi mercati, in primis quello statunitense ma anche europeo e del Medio Oriente.